La musica del suono spirituale, la vita per la vita attraverso Mario del Giglio, entità non identificata. Alcune volte c'è poca sintonia ed esiste dissonanza tra noi e lo strumento, il ricevente. Se farete più spesso questi incontri, non perderete il contatto. Cercate di riaccendere la radio più spesso per sentire la musica che proviene dai piani alti. Se abituerete l'orecchio all'ascolto potrete comprendere sempre più melodie e meravigliose sintonie e queste potranno farvi comprendere la musica del suono spirituale. Grazie a tutti. Grazie a tutti.